ci siamo messi insieme a luglio primo luglio che tra l'altro ha deciso lui io ho deciso lui sì perché stavo in bandahosta ah è vero stavo per lavoro in bandahosta ha deciso lui ti ha fatto sapere il mio messaggio guarda oggi stavo insieme basta è finito è scritto il primo luglio 2012 l'inizio non mi ricordo che ho scritto io ho detto che mi sto insieme Lui è una persona che non parla, ecco la sera è stata tutto il tempo incollata al muro e io sono amica del cugino per questo che ci siamo conosciuti e mi dava passito perché mi guardava e dico ma che vuole questo che mi guardate continuo? Però non parlava, adesso sono andata dal cugino siccome sono molto e io ho fatto il cugino, ma che l'hanno imbalzamato? E da là è nata la cosa che poi dopo un po' dei mesi siamo andati al teatro perché c'è un'amica mia che fa teatro con il cugino e io stavo lì in casa, mi hanno fatto fare conti a me che con la matematica avevano fatto la ruba del resto. Poi la sera siamo andati a uno schiuma party, bevi tu che bevo io, bevi un po' quello, ci siamo baciati. In discoteca sì, lì è scattato a bevuto. Allora, il prevedente è... no vabbè... Vabbè, ma lui mi aiuta in tutto, è veramente una persona speciale perché non ho mai ritrovato un ragazzo, cioè non ho mai visto anche i ragazzi delle mie amiche così, veramente... è d'oro. Lo scusiamo, lo scusiamo. E' una delegata, a casa non vuoi dire. Lo scusiamo, lo scusiamo, lo scusiamo, lo scusiamo. Lei è... è semplice, è solare e poi ti dice sempre la verità, ecco, questa è una cosa bella, sempre. Anche se c'è una cosa sbagliata, ok, lei te lo dice, è spontanea. Poi è bella perché... Manco in chiesa non l'ha da 9 città. Ah non l'ha da 5 città. Oh no, l'ho non l'ha da 5 città. E' un'ottomino. Mi cuore è del chiesa non l'ha da 5 città. Ma sciocca è sempre più piccà, io non l'ho mi a e d'oro qui vale. Ma sciocca è spie o di te cosa, è piuttosto che vengare insieme. Oh no, l'ha da 5 città a 3 città. Tu le mie è se... è ovissime, non l'ho da 5 città. Io non l'ho da 5 città, a 6 città. Oh no, l'ho da 5 città, è un'ottomino. Oh no... Yeah... ma non so scherzato la telecamera chi è? mamma e pensi che stavamo veramente davanti alla telecamera che c'è la telecamera non so stanno con Jessica ciao ciao se la scena lì la chiamiamo Maria ciao io sono Chiara noi ci metriamo il giorno più bello della nostra ciao